Non ci si abitua mai a vincere? Assolutamente no, io credo che alla mia età se non ci si diverte, se non ci si emoziona per queste partite credo che avrei già smesso di giocare, quindi oggi è stata una grande emozione. Come ho detto alle ragazze, anche prima di iniziare questa partita, le ho detto ragazze, è la nostra festa, godiamocela. L'abbiamo fatta nel miglior dei modi. Siete una squadra esperta che non ha regalato niente e che ha ancora tanto da dare. Credo di sì, però per adesso ci godiamo questo trofeo e poi penseremo al resto.